Si complica ogni giorno di più la vicenda del concorso per assumere 2.900 dirigenti scolastici. Il dato più grave è che il Tar Lazio ha già annunciato che il prossimo 2 luglio ci sarà la sentenza di merito relativa al ricorso di più di 300 concorrenti che chiedono l'annullamento della prova scritta. E da quanto sta trapelando al Ministero c'è molta preoccupazione perché non si esclude che il concorso venga davvero bloccato. L'annullamento delle prove avrebbe una conseguenza molto grave. Anche chi ha già superato scritto e orale dovrà ripetere l'esame con il rischio di non veder confermato il risultato positivo già raggiunto. E a quel punto sarebbe necessario ancora un anno per portare a termine l'intera procedura concorsuale. Il fatto è però che a settembre più di 3.000 scuole rimarranno senza dirigente scolastico con conseguenze facilmente immaginabili. D'altra parte il Ministero, almeno per il momento, non ha ancora messo a punto un piano B per evitare il caos. Per la verità c'è chi suggerisce l'adozione di provvedimenti urgenti, per esempio un decreto legge per garantire comunque l'avvio dell'anno scolastico. Con un decreto, per esempio, si potrebbero considerare comunque vincitori di concorso coloro che hanno superato prova scritta e prova orale, disattendendo così di fatto però una eventuale sentenza del TAR. Oppure si potrebbe ammettere ad un corso specifico di formazione tutti coloro appunto che hanno superato le prove, in attesa che anche i ricorrenti possano rifare anch'essi la prova scritta e quindi poter entrare anche loro in ruolo, magari con qualche mese di ritardo. Meno solida appare invece l'ipotesi di ripristinare i cosiddetti incarichi di presidenza, da assegnare a docenti inseriti in una apposita graduatoria. Certo è che in qualunque modo verrà risolto il problema, resta il fatto che sta ormai emergendo in modo molto chiaro che il modello tradizionale del concorso non è più affidabile e sarà quindi necessario in tempi rapidi individuare modalità innovative per reclutare dirigenti scolastici e non solo. Perché tra l'altro fra qualche mese, non dimentichiamolo, ci saranno anche in pieno svolgimento i concorsi per docenti e per DSGA e anche quelli potrebbero essere a rischio annullamento. A quel punto ne verrebbe travolta l'intera politica scolastica del Ministro Bussetti che proprio sul tema del reclutamento ha cercato di puntare tutto. Il tema è veramente grave, veramente scottante. Noi continueremo ad occuparci, noi come abbiamo fatto fin qui. Seguiteci su questo canale, inviateci i vostri commenti, le vostre osservazioni. Grazie. 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 Grazie.